Sono tre le nuove strutture di eccellenza inaugurate con un investimento di 7 milioni di euro all'ospedale di Santa Maria delle Scotte a Siena. Si tratta del nuovo Day Hospital Sperimentazioni Cliniche del Centro di Immuno-Oncologia, del Polo Endoscopico e del Day Hospital Ematologico. Le tre strutture, realizzate nonostante l'emergenza Covid, garantiranno un notevole potenziamento della struttura ospedaliera senese, oltre che della qualità dell'offerta di cura ai pazienti. Per il nuovo Polo Endoscopico delle Scotte si stima un afflusso di 12 mila pazienti all'anno, 7 mila solo per procedure endoscopiche. Il Day Hospital Sperimentazioni Cliniche del Centro di Immuno-Oncologia amplierà le attività dedicate ai pazienti, mentre il Day Hospital Diematologia è la prima parte di un progetto di gestione innovativa dei pazienti oncoematologici.